Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Kraita o Krayaita. Non lo so, noi in italiano lo chiamiamo Kraita. Ok, non so assolutamente nulla riguardo a questo gioco. Assolutamente, quando dico assolutamente nulla ho creato il mio personaggio, che è questo, come potete vedere. Ci sono dei livelli, delle cose, non so assolutamente, ma andiamo subito a provare con Play. Pianeta, Gnosis, 81%, artefatto, sniper arena, non so, c'è un sacco di roba e onestamente non lo so. Hyperla... Boh, proviamo questo. Avventure, espressione, futuristico, RPG, sci-fi, dungeon crawler. Non ho la più pallida idea di cosa stiamo andando a fare. Kraita. Un po' lunghetto il caricamento. Ok, siamo arrivati... La camera è velocissima. Info. Non so neanche i tasti. Personal teletrasportazione. Buy camera, 800 credit. Buy access code. Buy access code. Premier, tu invent, premess, tu open the door. Ok. Cosa è sto robo? Ma, signore, non è brutto. Daily payment è pronto. Attivity for battle XP. Colleziona. Polish. Get access code. Angar. Questo, questo... Eh? Cosa? Sono nello spazio. Vai. Siamo scesi nel pianeta. Benvenuto, Tugnoli. Ma c'è gente. R. Questo è il nostro inventario. Ok. E come si va? Chiudere Q. Ok. Non posso fare niente. Qua dentro c'è qualcosa. Andiamo a esplorare. Non si apre. Credit. Cos'è sto coso? Questo è un magma? Sì. Questo? Eh, no... Non so cosa fare. Quindi... Boh. Andiamo qua. Cosa sta succedendo? Siamo in una caverna? Non lo so. Oddio. Siamo dentro un qualcosa. Penso che ci sia. Però non so. Stiamo crescendo. Eh? Mi ha bloccato. Something come you. E quindi? E non so cosa fare qua io. Eh, uè, uè, uè. Qualcuno spara. Signori, non ho la più parità. Io scendo. Vado in caverna. Chi se ne frega. Ah, c'è una seconda porta. E... Accesso C negato. Ditemi... Cioè, credete forse devo diminuire la sensibilità della camera? Eh, così è troppo dura. Eh, così forse è un po' meglio. L'unica cosa è che non so che cavolo devo fare. Ma hai detto, ah, c'è solo quella porta negato. Beh, corriamo. Il mondo non è male, mi piace. Quella un'arma. Ma... Ma io non ho il push to talk. You're still in game. Eh... Audio. Ah, ecco. Sto... Ok. Parlavo. Ehm... Input. Mouse. Controller. Va bene. Ah, binding. Eccoli qua. Spacebar. E. C. Sprint. W. Ah, eh. Eh, look up, look down. Look up, eh. Ah, ah. Ah, basta. Paggia giù, pace su. E tanta roba. Vediamo. F. Ah. Ok. F. Qua c'è R. Vabbè, l'inventario. Eh, eh. Q. T. Ok. Vabbè. Ma di qua sono venuto io? Coming soon. Eh, eh. Io vado in esplorazione, però. Qua c'è un mugo, però. Attenzione. Crouch. C'è qualche stanza segreta? Ci sarà un modo per scavare? Non lo so. F. T. Enter. 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 Tra l'altro credit mi dice zero. C'è un fungo. Ok. Oh, attenzione. Colleziona funghi. Finalmente. Ho trovato qualcosa. Altri funghi. Ma. Non so. Io sto camminando a zonzo, praticamente. Ho tenuto un piccolo battaglio. Qua. Ah. C'è scorie radiattive qui. Stanze. Non è che è stato già depredato. Ma. Ma si autogenera dinamicamente in questo mondo? O mi sono perso? Non so a cosa serve il fungo, eh. Tra l'altro ho poca vita. E io scendo di qua. Ma qua ci siamo stati, se non sbaglio. Ah. Vedi? No. Qua c'è l'aria... Quella... C'è sonegato. Io sto raccogliendo i funghi, ma... Non so cosa farmene. E vi assicuro che... Non c'è nient'altro da fare, eh. Eh, sì. Ci sarà sicuramente... Eh, però lì non ci posso andare. Aspetta. Ma qui c'è una sala. Eh. Ti controllo. Eh. Signori, io non lo so, però vado qua dentro. E qua mi fa entrare. E non mi fa più tornare indietro. Non lo so. Però ho raccolto i funghi. Settlement. Ok. Eh no, escono... Come si fa a uscire? Eh, ecco, è uscita. Questa è la mia nemicella spaziale. Quindi posso tornare. Ok, siamo tornati. Importante dei segnonici Usare il flying vehicle To stay safe Quindi da qua ti ritorno nella sala Gaprone Questo chi sarebbe? Finalmente Eh Sì Sono alle spaceship Coming soon Ok Non l'ho capito Ma Sembra che tu possa Che place so far? Eh, non ce l'ho Sembra che tu possa creare cose I funghi Ce l'ho Ce l'ho i funghi Questo non è il tuo laboratorio Ok Play Vediamo un po' Cerchiamo di capirci qualcosa Fortnite Sarebbe? Va in giro a spara e ammazzi? Questo Play Tempi di caricamento un po' lunghini Benvenuto Daily creator challenge Mine Ah Tu sei stato Ho già noto un regalo Eh Get started plant with soil farm Ah Piantiamo i semi Oh Ok R Inventario No Cool We grow quickly Wait for it Before you grow Ok Aspettiamo Attenzione Si apre un mondo qua Ma è vero Oppure è finto? No è finto Peccato Il pollo La banana Poi ho preso il banana 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 Raccogliamo un banale Ma non posso spaccare le cose No eh Questo si può minare Questo dai Questo si Cos'è questo? Lì c'è qualcuno Spaventa Spaventa Passa Lì si Si Ok Fornitore Wagon Progresso Dei tutorial Ah Devo aspettare che cresce Ah è cresciuto Il crop Che ho messo Qua Harvest Fatto Quindi Tu ora puoi harvestare il crop Dole seed barn In the town Where To stand R Tutorial flower Eh lo voglio vendere Ah qua 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 Ok Vendiamo Questo 100 Finalmente abbiamo un tutorial Ora compri Più seed plant Corn Questi 50 Perfetto Get the seed plant Tutti i semi E' solo un po' Ah uno solo Vabbè C'è la miniera Andiamo in miniera Signori Allora vediamo se possiamo Prendere qualcosa Sì Ma Siamo preso Teste robe Ma Eh Dai Questo Esc Eccola qua Tu Picax Questo Vai No Non abbiamo abbastanza soldi Ma dove li vedi Mi so A 50 In basso a sinistra ci sono i soldi Una mela Una mela La mela Bella la mela La prendiamo Andiamo Prendi mela Vendiamo mela Vendiamo La mela Buongiorno Sono qui per vendere Tutte le mie mele E tutte queste banane Grazie 130 Ce la facciamo Permesso No Ci abbiamo 120 Sta prendo a fuoco lì C'è un incendio Ho visto l'incendio Ah no Non è l'incendio È il palò Vabbè Raccogliamo queste banane Permesso Grazie Un due Ah Banana C'è il giorno notte Adesso Zigzagolo Mi sarebbe piaciuto O fosse stato più grande Ah Mi sono incastretto Benedetto Benedettolo Ok Andiamo qua C'è pure la barca Saltiamo così Saltiamo così E andiamo di qua Permesso Grazie Volevo vendere Tutte queste banane Quanto c'ho? 205 Non ce la facciamo Era? Quanto era? Così 300 Mamma Pirilari Pirilupina Ok Qui Bene signori Andremo Lo stesso Oh Mela Sì dai Facciamo così Prendiamo queste mele Tanti sono gratis Ok Ok Teoricamente Da quello che ho capito Puoi creare tutti i mondi che vuoi Fare quello che vuoi In questo posto Anche arredare la casa Scusi signor Spaventa Spaventa Le vendo anche queste altre mele Arrivo a 300 275 Gentilissimo Però visto che ci sono delle banane C'è anche una canata pesca qua Non corro più Sono stanco No Ma la posso mangiare la banana? Posso raccogliere il crop? No Ancora no Vai 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 Che ce la puoi fare Banane Vendo tutto Sì Pecax E bui Finalmente Dove sono le special cose? Vado in miniera Travelling to mine Ah Ok Ci siamo Tomb whale mine Lanterna Eh vabbè Non ce l'ho Voglio minare Fatemi minare tutto quello che c'è Nell'oscurità Stiamo Ma che faccio così? Oh 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 Ma che è? No Aspetta Aspetta Che vuol dire? C'è solo pochi secondi Per farlo Non l'ho capito Non lo capisco Perché è così difficile per me? Ah di qua si torna indietro Ok Questo forse No? Dove si fa un asset Non c'è più niente qua? Ah qua Aspetta Ta 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 Quindi Devo essere velocissimo Ta Ta No 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 Non buiarti Non buiarti Non buiarti Eh no Si Alla Buia sempre però Forse devo stare qua No Vedi già diventa buio Eh non capisco Tu puoi trovare la cesta Insieme ai metalli Ah devo comprare una lanterna Prima Ah Ma dimmelo No E non ce Ce li ho? Non ce li ho Mi dispiace Dobbiamo uscire Return to farm No facciamo così Eh no Vediamo un attimo Play Tech preview Planet Questo qua non l'ho capito Mega factory simulator Grow your factory empire Pum Eh Si lo so che volete provare questo Andiamo Proviamo Ok Ci siamo Ah Si spara qua Non ce n'è nessuno Che che Ah Ah Ok Bene Oh ma così Ho vinto Non ce n'è nessuno Non ce n'è nessuno Ok cambiamo Play Find the correct way Questo Play L'unghia tese Eccoci Sto avendo paura R per l'istruzione Fai la differenza tra le stanze E trova il corretto modo per finire questo viaggio Space world Ti piace Quattro livelli Ah Aspettiamo Madonna mia Oh ce l'ha fatta Come wrong path Aspetta Mi ha buttato fuori Wrong path Basta Sbagliate il pal Ma sono spawnato lì Cioè Non è colpa mia Creta Non è colpa mia Madonna Quanto dura sto caricamento Un'eternità Ok Siamo tornati qua Eh Si Andiamo in battle pass Clayiamo i nostri reward Oh Fico Ah Esotico Equipaggio Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Il robotone Poi che cosa abbiamo Questo Posso fare Oh Info Cut Questo Questi capelli Oh Questo mi piace Ah Lo posso comprare Allora Questo no C'è un sacco di roba Signori C'è un sacco Di roba Ma proprio tanta Ok Ok Sorry You cannot change Right now Vabbè No Voglio andare nel creator Create Ah puoi creare Le tue cose MT game Vedi Collection game C'è un sacco di roba Signori C'è un sacco di roba Battle pass Defense at mark Ok Se io adesso Ok c'è questo Va bene Vorrei giocare Con Qualcosa dove c'è L'alieno Alien disaster Vediamo un po' Cowboy e alieni E cosa fa? Alien target smash The dry war season Aliens The dry war Stagione alieni Vai Questa Ah C'è anche il là Ah Alieni sono arrivati Scopra Uovo Trova il segreto Sotto terra Il buco E combatti Per il tuo team Vai Questo Bellissimo Si spara Vai Madonna un po' Questo No Reload È un po' Che è successo? Che è teletrasportato? Vabbè Abbiamo fatto finta Decreate escape Social cos'è? Ah Fa intelligenti player Super bizzare avventure Ho visto però Una cosa Tipo questa Alpha New aggiornamento C'è un sacco di persone Che ci sono entrate Cooperativo Quipon Vediamo eh Si Ok Ci sono Ah Non si può correre Questo cos'è? Oh Ma che Ma Sono Ma Ma Mi è spuntato dietro Le ciappette Ma C'è un aereo Ah Questo È un pagliace Tra l'altro Ok Power required Oh Questo Oh Si apre Che cos'è Sto roba Sto cercando di No 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 Ma Ma hanno Incellato Restore Restore The power Due Dove 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 Eccoli qua Sono troppi Però Va 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 Dietro di me Erano Questo Questo cos'è Premier Cost De ammo No Va 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 Escono Dalle pareti Questo cos'è Sono forti Sono forti Non becco neanche Questo è Se Che è usciata nel pavimento Qua Qua Il 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 L'arma è bankrupt Pardon L'arma Vai Costo Quanto C'ho Io Parabellum Vabbè Qua Non si può andare Credo Aprire la porta Costa Oh Punto Introgativo Così ci sarà Qua dentro Bella Prendi la La chiave Mi aprirà Questo Sì 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 Dai No 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 Vai via Vai via 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 Cattivo Brutto Cattivo Corre Corre Lui Corre 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 No 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 Che è Successo Ho Finito Ho Finito L'ammo Ah Ma Dai Ma C'era Generatore Richiesto Mi sa Che non Era Da Sparare Qua C'è Un Cosa Da Sparare Mi sa Che era Da Da Fare Diversamente Sto Gioco Eh E Questo Ah Prende Anche Questo Potenza Richiesta Ah Mi stanno Seguendo Guardate Quanti Sono Morirò Morirò Mi sa Andare Aspetta Aspetta Qua c'è il cavo Ah Qua c'è un altro biscottino della salute Madonna mia Mi seguono Ma non ho soldi Non so neanche dove si prendono i soldi Onestamente Cos'è Power Ah Ah Mr. Egg Quindi Va 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 Qua c'è un altro spara spara Ho capito Ho capito Ci siamo Vai Allora Prendiamo questo Qui c'è un altro biscotti Secondo me Biscotti della salute Chiedo una chiave Chiave richiesta Power richiesto Qua è l'unico posto che possiamo aprire Perfetto Allora Noi ce li portiamo Tutti dietro Così Sono dietro E non ci rompono le scatole Allora So che qua dietro C'è Quello Cosa succede Non lo so Generatore richiesto Generatore richiesto Palloncino Ok Via 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 Ottimo Abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato quel coso Fico Questo Poi Ah eccolo qua il generatore Signori Abbiamo Progredito Non so come Prendi Prendi Solo mi seguono Facciamo il giro C'è l'armadietta L'abbiamo già Palloncino Palloncino Shoot dei palloncini Ci sono dieci palloncini In giro Ah eccolo là Un altro Fatto Andiamo a mettere Il generatore Di corrente Space No mettilo però Oggetto Aggiornato Abbiamo messo Il generatore Verò Sì Quindi adesso Abbiamo Tutta la corrente Qui To buy blood money No Blood money La palloncino Ah Io mi ricordo Che qua c'era Dove era qua O era di qua C'era un coso Questo richiede la chiave Che non mi ricordo Dove l'ho presa La chiave Chiave richiesta Come un Deposito Premier Per depositare Una bar Non hai abbastanza Soldi Non hai abbastanza Soldi Ma Ci sono i mostri Che ci inseguono E noi scappiamo Miseramente Costo Ah Abbiamo preso Un fucino Ma questo Si può rompere No C'è l'ammo Questo Possiamo entrare qua Che succede Che succede Ah eccolo là Guarda Guarda Si mostri però Fanno un po' paura Questo 1250 Per aprire la porta No Abbiamo un fucile A pompa Ma non so Che farne Sparo un po' Così c'è Niente Ma quello Non è che ci devo sparare No Io palloncini Però non ne vedo più Accedi al main computer Dov'era il main computer? Qua Non era questo Dov'era il main computer? Ah no Main computer Main computer Ah si sale Ecco Sono incastrato Ecco Ehm Dov'è il main computer? Questo cos'è? Rail gun Eccoli Stanno arrivando Li ho sentiti Io non ho capito Dov'è il main computer Questo? No Non credo proprio Signori Non trovo Il main computer Ma io pensavo fosse quello Mi dice di andare nel main computer Ma dov'è? Qua T'ho dato corrente Mother Mother Ho premuto Il tasto di disattivazione Dov'è il main computer? Dai Questo cos'è? Cos'è? Dov'è il main computer? Sparo al libro Questo Questa è una bilancia Se tu metti un peso di qua Prendi un altro di là Ehi Sare di qua Chiave richiesta Costo ammo Io non l'ho capito Ma se sparo al No Salgo di qua Dice Ah non puoi Eh 1250 per rimuovere la barricata Banca Piedistallo Giuro che non ho capito Mi faccio così Lo posso rimuovere Eh Oh Per liberare un amico È il main computer Dov'è? Sarà qua Eh ma fa questo coso Signori Io Credo che Di non aver capito Dove sta il main computer Ho tutto come faccio a fare soldi Ne ho 400 Io sto provando a premere No 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 Però non Trovo nulla di Neanche più palloncini Trovo Credo che Ho completato tutto In questa zona Credo che si debba andare In un'altra zona Però non capisco A meno che si deve passare qua No Stop Cosa dice Ma sono troppi Cioè se io ne uccido uno 950 1000 Ok Quindi con 1000 Posso prendere l'ammono Aspetta eh C'ho 1150 Mi devo fare un gioco di astuzia Questo quanto vuole 1000 Ok Forse Ho capito un attimino La dinamica Di come vuole lui C'è scritto Stop Ah il cartello Metti il cartello Ah Eh Ok Ok Via Ok Via Questo computer E' inusabile Rimuove la Oh la la Così possiamo scendere di qua Perfetto Ok Stiamo incominciando a capire Allora Via 48 munizioni Facciamo così Prendiamo le munizioni Ah ma ce ne ha sempre 50 Tu corri troppo veloce Cos'è quel simbolo di morte Beh Facciamo così Grande Cioè mi voleva uccidere Stavo per morire Ottimo 2008 Perfetto Adesso dovremmo poter sbloccare Questa porta Yeah Yeah Dai zitto Falli qua 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 No Eh vabbè ma allora lo fai imposta Perché non si fa Questa è cattiveria Travel to L'ignoto Eh Ah sono i punti Upgrade your weapon Eccolo qua il main computer Sarà sicuramente lui Dimmi che è lui Collezione C'ho la carta Get accreditation Uno Due Ok Vabbè Dice Great accreditation For conflagration C'è un palloncino No Ah Non lo so Sbagliato Questo non funziona Oh Ma Mi date un attimo Una tregua Per favore Gli dati troppi Ah Aiuto Poi sono brutti Oh Ok ho abbastanza soldi Eh Sì l'ho capito Questo Questo coso qua Eh Mi ha buggato No E' buggato Palloncini Qua Ecco Vabbè da Intruder Identify yourself Non entri Naturalizzate Persone On Ecco Ah Oh Sorry Mi ha visto che Io Guarda Mi ha detto Watch Ok Ok La canzoncina Da Ok No Non so Cosa Ho Comprato Questo Cavolo Di cosa Non funziona Ma io prendo Anche Questo Nasconditi dal sistema E quindi per nascondere Vado qua 28 27 26 4 23 Cosa vuol dire Mi nascondo Qua Ah Ho spento La fiamma 3 2 1 Non è che L'abbia ben Capito Sta cosa Oh Ma qua Adesso diventano Sempre più potenti Dammi il per 2 Ma che è Questo Ah no No Aspetta Cioè qua dietro C'è qualcosa No Eh ma così Sono rimasto bloccato Mi hanno Ingelato Morto Dannazione Ah c'era Giovannino Pure Bene Signori Io penso Che Abbiate capito Molti più Da questo gioco Lo trovate su Epic Store E Grazie di essere stati con me Per supportare il canale Basta un like Un commento E se vi va Iscrivetevi E come sempre Siete mitici Alla prossima Bye Bye